Sì, dato che la concorrenza davanti è molto ampia, il mister ha deciso quest'anno di farmi passare punta centrale. E' il mio ruolo naturale, anche se forse più una seconda punta, prima punta magari devo lavorare ancora tanto perché spaglio la porta è molto difficile. Però lavoriamo giorno per giorno, bisogna migliorare sempre di più. Penso che tutti si deve giocare, è il bello di questo sport, insomma anche quando c'è tanta concorrenza uno dà sempre qualcosa di più, quindi penso sia anche una cosa molto positiva. E' un test molto molto positivo, sia anche per il mister per vedere tutte le trame che abbiamo provato durante la settimana, quindi penso che è bello giocare contro una squadra di Serie A e credo che lo 0-0 sia il risultato più giusto. Io ho iniziato rispetto alle altre squadre un pochino dopo, dato il finale di campionato e i play-off, e quindi adesso piano piano stiamo raggiungendo un po' di velocità, un po' di rapidità al percorso. Grazie a tutti!